La vignetta per viaggiare sulle autostrade svizzere diventa digitale. Dal prossimo 1 agosto, oltre al classico contrassegno adesivo, sarà possibile utilizzare anche quello elettronico. Il tagliando digitale potrà essere acquistato sul sito www.evignette.ch tramite il portale via dell'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. La novità è stata approvata dal Consiglio Federale. Il costo della vignetta elettronica o adesiva è di 40 franchi. Il contrassegno del singolo anno ha la validità dal 1 dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno successivo. Mentre il contrassegno adesivo è associato al veicolo, quello elettronico è correlato alla targa di controllo. È possibile acquistare la vignetta digitale ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, nel caso delle targhe trasferibili, possibilità prevista per gli automobilisti svizzeri, i proprietari hanno bisogno di un solo contrassegno elettronico anziché di un adesivo per ciascun veicolo. Se nel corso dell'anno si acquista un nuovo veicolo, non occorre più acquistare un nuovo contrassegno, a condizione che venga mantenuta la stessa targa di controllo. Allo stesso tempo non è più necessario sostituire il contrassegno in caso di rottura del parabrezza. A partire dal 1 agosto sarà possibile acquistare la vignetta digitale. Per l'acquisto sono sufficienti tre informazioni, la categoria del veicolo, il paese di immatricolazione e la targa di controllo. Non è necessario creare un profilo utente né inserire le informazioni relative alla persona. Il pagamento del contrassegno elettronico avviene tramite carta di credito o mezzo di pagamento online. Il controllo della vignetta digitale viene effettuato al confine dai collaboratori dell'ufficio delle Dogane e all'interno del paese dalla polizia cantonale tramite verifiche a campione delle targhe di controllo.